La città di Giaveno è una città che non ha solo vocazione turistica ma anche vocazione sportiva. Nel 2013 abbiamo avuto un riconoscimento dal Parlamento Europeo di Città Europea dello Sport, continuiamo a puntare su questi obiettivi, quest'anno abbiamo fatto diversi investimenti proprio sull'impianti sportive, abbiamo questo palazzetto che è stato inaugurato nel 2017 che ci sta dando veramente tantissime soddisfazioni dove verranno appunto ospitate queste due discipline importanti sia di atti marziali che appunto di danza sportiva che per noi è veramente un ottimo risultato non solo dal punto di vista sportivo ma anche di ricaduta turistica sul nostro territorio della Vassangone.